Buongiorno, oggi vedremo come utilizzare la Hawkeye nei due utilizzi più classici in altura mediterranea. Mentre adesso vedremo la canna a 70 metri sulla Hawkeye, noi avremo l'esca e la cam, la Hawkeye, che farà da bird sempre con il suo spezzone che la fa scorrere e si comporterà come un classico bird, farà da richiamo in superficie, la telecamera, come abbiamo detto, dietro, e ce la posizioniamo a 70 metri sui nostri tempi. Se vuoi anche interrompere. Grazie a tutti.